Buongiorno dal Centro Sportivo Rosso Blu, siamo con Tribuzzi che prima dell'allenamento mattutino risponderà alle domande inviate dai giornalisti. Alessio iniziamo pure con la prima domanda da parte di Giuseppe Livadotti per la provincia KPR. Sarà sempre un crotone con Tribuzzi protagonista e quindi cercherà di confermarti indispensabile anche nel girone di ritorno? Soddisfatto di come ti sei espresso nel girone d'andata? L'obiettivo è quello di continuare a lavorare, di continuare a cercare di fare bene quando vengo chiamato in causa. Sono contento della domanda, però qua secondo me nessuno è indispensabile, siamo tutti giocatori forti. Io sono contento di giocare, ma devo continuare a meritarmi di scendere in campo dall'inizio alla domenica. Claudio Berlingeri per la Gazzetta del Sud, si torna in campo subito col Big Match con il Catania. Che gara vi aspettate? È una gara difficile, a parte che facili non ce ne sono, però giochiamo contro una squadra forte che a inizio anno è partita, era partita tra una di quelle che doveva vincere il campionato e secondo me stanno tutti ancora in tempo perché il giorno di ritorno è tutta un'altra storia, però giocano due squadre forti contro perché anche noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e non vediamo l'ora di scendere in campo e fare questo Big Match. La prima gara dopo una pausa è sempre una vera e propria incognita. Come ci arriva il Crotone considerando che voi avete chiuso il 2023 e il girone d'andata è con una pesante sconfitta, il Catania invece con una sonora di importante vittoria in casa del Benevento? No, ma il Crotone secondo me ci deve arrivare con la consapevolezza, come ho detto prima, che lo abbiamo dimostrato in tutte le partite e anche con le grandi che possiamo giocare proprio in maniera tranquilla e dobbiamo scendere in campo con questa consapevolezza, con la consapevolezza che incontriamo un avversario forte, che sta in ripresa, che sta in fiducia perché vincere a Benevento non è facile, però noi ci siamo già mentalizzati e già ci stiamo preparando per questo. Gabriele Pio Piccolo per Stadio Radio, con più di 1600 minuti giocati da inizio stagione sei uno dei pilastri di questo Crotone, cosa significa per te far parte di questa realtà? No, per me, come ho detto prima, è importante, è molto importante e sono contento e ho detto che devo continuare a lavorare e continuare a cercare di migliorarmi sempre di più con gli allenamenti e partita dopo partita. Due golli in stagione, uno in campionato e l'altro in Coppa sempre contro il Catania, la prossima sarà la partita giusta per ritrovare la via della rete? Speriamo, 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 no, ma l'importante è che domenica portiamo a casa i tre punti. Gianfranco Turino per il Rosso Blu, abbiamo visto che questa squadra può giocarsela su tutti i campi e contro tutte le squadre, anche se contro l'Avellino ci sono stati evidenti passi indietro, ma cosa serve al Crotone per fare il definitivo salto di qualità e dare un'impronta decisa al campionato? Sì, diciamo che con l'Avellino non è stata la nostra miglior partita, però comunque abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra molto forte e abbiamo avuto occasioni anche noi per pareggiare, loro hanno avuto le occasioni per addoppiare, è stata una partita a viso aperto che secondo me alla fine poteva tranquillamente finire in pareggio, però è andata così, secondo me noi dobbiamo continuare come abbiamo finito le ultime dieci, perché quello è un dato di marcia importante e noi dobbiamo continuare a cercare di fare più risultati utili consecutivi per cercare di rimanere scia nei posti alti. Tu sei uno dei leader di questa squadra, ti senti questa responsabilità addosso? No, come ho detto prima, guarda quest'anno veramente siamo un gruppo di tanti ragazzi, tanti ragazzi anche giovani, siamo un grande gruppo e nello spogliatoio siamo benissimo, quindi diciamo che secondo me veri e propri leader non è che ce ne sono, perché ripeto siamo un gruppo unito, secondo me siamo tutti importanti e quindi questo è importante.